Una mattinata di festa all'insegna della condivisione e della cura del territorio. A Carmignano domani torna Puliamo il Mondo, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata da Lega Ambiente. L'appuntamento è appunto alla pista rossa di Seano. Quest'anno abbiamo fatto un unico appuntamento che ha aperto tutta la cittadinanza, piccoli e grandi, per ritrovarsi a pulire questo spazio pubblico molto frequentato e molto importante. Quello è un luogo sempre vivo, sempre pieno di persone, bambini in bicicletta, genitori eccetera e proprio per questo il grosso utilizzo ha bisogno appunto di una pulizia un pochino più generale. Con il supporto dell'amministrazione comunale e il coordinamento dell'ufficio ambientale, oltre all'area verde saranno ripuliti anche i giardinetti. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare la cittadinanza, in particolar modo le giovani generazioni, quelli che prenderanno in custodia appunto il nostro territorio al rispetto dei luoghi pubblici, degli spazi e rispetto dell'ambiente. Tenere un mondo pulito significa un maggior decoro per il nostro ambiente, ma soprattutto ridurre la quantità di rifiuti gettati in modo improprio, alla luce anche di quello che ci stanno dicendo tutte le agenzie internazionali, che stiamo consumando il futuro del pianeta, cioè stiamo consumando più rifiuti, più materie di quanto il pianeta in modo naturale riesce a riprodurre. L'appuntamento è alle 10 e ai partecipanti sarà offerta una colazione di ringraziamento.